questa puntata questo viaggio vi portiamo in trentino e sapete come faremo il nostro percorso attraverso un vero e proprio agritour andremo a visitare degli agriturismo molto particolari perché vi accorgerete che a parte essere strutture nuove costruite con materiali ecosostenibili vi propongono delle cucine meravigliose tanta accoglienza ospitalità familiarità insomma faremo un viaggio straordinario rimanete con agrisapori perché sarà un appuntamento importante dal trentino e allora amici cari siamo subito scesi in campo val di non la valle delle mele iniziamo il nostro percorso per questo viaggio lo facciamo con egno magnani che il vice presidente del consorzio dei produttori il consorzio melinda che raggruppa 16 cooperative per essere vice presidente vuol dire che lei è presidente di una cooperativa se ho capito bene però diciamolo subito certamente e per essere presidente della cooperativa vuol dire che lei è un socio ma soprattutto un frutticoltore esatto regole che non si possono non si possono assolutamente evitare egno siamo in raccolta la golden questa mela meravigliosa parliamo dunque di quest'annata di questa stagione di questo anno di raccolta perché qui siamo alla tra virgolette vendemmia è la festa di un anno di lavoro me ne parli ma guardi allora la natura ci ha dato delle sorprese anche quest'anno inizialmente ci sono state le gelate nei mesi primaverili e gelate abbastanza consistenti perché parliamo di un meno 5 meno 6 in certezione meno 4 eravamo un po preoccupati perché sulla fioritura poi accaduta la neve c'è stato tutto questo trambusto ed effettivamente sui fiori avevamo visto il riscontrato dei danni che in realtà ci sono anche stati poi questi danni ma la natura la sua evoluzione non lo so neanche io cosa è successo in realtà ha risparmiato gran parte della produzione e quindi ci ha dato comunque un'ottima produzione ma questa è una bella notizia anche se in certe zone effettivamente qualche limitazione c'è stata perché effettivamente i gradi sono questi e pretendere di fare produzione però come le dicevo prima l'evoluzione la natura non so cosa in realtà è stata una sorpresa anche per me stiamo osservando la raccolta delle gold ma sono altre le varietà che troviamo anche sul territorio e la qualità a questo punto perché è buona ma la qualità è ottima non solo buona e anche sotto l'aspetto organolettico è una mela veramente di qualità è stata una sorpresa anche per noi perché addirittura anche le mele magari sottopianta qualcosa hanno una dolcezza sicuramente che la natura ha fatto anche quella parte ritengo sia stata la stagione il caldo la pioggia non so cosa ma veramente sotto l'aspetto qualitativo ottima sotto tutti i punti di vista facciamo un piccolo passo indietro io ho citato le 16 cooperative ho citato il fatto di essere frutticoltori ma dobbiamo menzionare sottolineare che qui parliamo di oltre 4.000 soci conferitori e parliamo di 4.000 famiglie che operano lavorano vivono il territorio ma alla val di non è indicata come la valle della mela qui ci sono famiglie e c'è gente che in realtà che hanno tutti a che fare con la mela o direttamente o indirettamente se non frutticoltori in un modo diretto ma anche in diretto hanno tutti a che fare con la mela è una nostra risorsa ed effettivamente è una prospettiva che che noi teniamo ci teniamo moltissimo che possa proseguire che possa andare avanti con le difficoltà che il momento evidentemente oggi come ben sapete richiede insomma perciò frutto prodotto da vendere che crea reddito ma anche tutela perché insomma se qui non ci fossero queste persone questi territori sarebbero abbandonati tra virgolette qua gli agricoltori cercano di salguardare il territorio in un modo straordinario non lo so cosa sarebbe successo in val di non noi abbiamo visto che l'abita della mela qui è straordinario c'è una coltivazione accurata da parte di tutti di tutto il territorio come lei vede è un qualcosa noi dobbiamo conservare quello che i nostri vecchi hanno fatto quelli che i nostri antenati hanno costruito qui in val di non si è lavorato si è lavorato tantissimo con le mani non è che si è inventato si è fatto qualcosa di tecnico che ci siamo andati a letto la sera e la mattina ci siamo svegliati abbiamo trovato questo c'è gente che si è sacrificata quindi noi dobbiamo in tutti i modi avere rispetto del passato avere rispetto del futuro e cercare di creare alleanza fra le cooperative fra i soci cosa che noi a melinda abbiamo fatto noi in val di non abbiamo fatto una cosa straordinaria ma non perché sono io al mondo non esiste un'aggregazione di soci di frutticoltori come c'è in val di non e in più dobbiamo sempre fare un prodotto di alta qualità abbiamo detto che stiamo raccogliendo le golden a tal proposito anche per la raccolta delle varie tipicità delle varie qualità e varietà stesse di mele ci sono dei giorni ben precisi di raccolta e poi c'è già una prima selezione durante la raccolta ci sono delle analisi specifiche che i tecnici fanno con un percorso che inizia all'inizio dell'anno e va fino alla raccolta vengono date delle indicazioni per zona addirittura non è che noi raccogliamo tutta la valle di non nello stesso periodo ogni zona il suo percorso abbiamo un responsabile qualità all'interno del consorzio abbiamo i direttori all'interno delle strutture che vanno in campo proprio direttamente dagli agricoltori e stabiliscono le zone e il periodo della raccolta per cogliere la mela nel momento giusto per darla ai consumatori al giusto momento dove possano avere così una qualità veramente eccezionale solo con questa programmazione lei poi dopo riesce perché il lavoro di tutto l'anno quindi anche la fase di raccolta è una fase dove noi dobbiamo metterci tutta l'attenzione possibile. Possiamo completare questo suo intervento ricordando le cinque varietà più importanti che abbiamo sul territorio certamente e dobbiamo non dobbiamo dimenticarle le Red Delicious, le Canada, le Gala, le Fuji e queste sono un po le varietà che noi abbiamo. Però è importante che ricordiamo che la Golden, la Renetta e la Red Delicious sono a denominazione di origine profetta. Un grazie al Vice Presidente del Consorzio. Beh noi ora ci tuffiamo in un mondo meraviglioso, il mondo degli agriturismo che hanno a che fare con il mondo della mela chiaramente ma che ci offrono anche altre sorprese. Rimanete con noi perché sarà una puntata avvincente dalla Val di Novo. E allora inizia così il nostro percorso che si svilupperà attraverso gli agriturismo del territorio. Perché? Perché sono delle strutture vere e proprie ambasciatrici del mondo della mela. Sono strutture di ricezione turistica naturalmente di proprietà di alcuni dei 4.000 soci conferitori del Consorzio. Sono dei frutticoltori che hanno creato un qualche cosa di bello per ricevere i turisti qui in Val di Novo. E ognuno vedrete, vi accorgerete, che ha delle sue peculiarità. Iniziamo da Meckel, una frazione di cless. Sono con Maria Paternoster, questa signora gentilissima, gentilissima. Perché? Perché la signora Maria, nell'agriturismo di Rosario, suo figlio frutticoltori, è lei che prepara i dolci. Sì. E mi dica qualcosa di questi dolci meravigliosi perché sono straordinari. Ma dico che mi è sempre piaciuto fare i dolci, ma con le mele è facile farli perché le mele sono talmente buone che anche con un po' di manualità e dei buoni prodotti fagottini, esce una buona torta, dei buoni... Dolci come per esempio, beh, questa allora è la classica crostata di mele, fatta chiaramente in casa. Poi ci sono questi che sembrano dei fagottini, ma che in realtà si chiamano... Melle in camicia. Ah, e come le fa? Sono piene, c'è la pasta sfoglia all'esterno, e sono piene di mela renetta, perché la mela renetta è molto buona, cotta, è molto saporita. Là c'è lo strudel però, eh? Lo strudel, che è il nostro piatto forte, diciamo. Poi là? Questa è la torta di mele. Anche quella? Anche quella. E questi biscotti qui buoni? Questi biscotti sono fatti un po'... Beh, anche se non c'è la mela, ma va bene, eh? Non c'è la mela, sì, però sono tutti fatti in casa, questo ci tengo a... Ma ci mancherebbe, e poi c'è l'aceto di mele. L'aceto di mele, le marmellate. Ecco, marmellate, confetture che la signora Maria prepara in un ambiente particolare. Sì, sì, giù da passo. C'è un laboratorio. C'è un laboratorio, e li invitiamo anche gli ospiti a collaborare. Maria, io la ringrazio perché lei ci ha presentato delle cose meravigliose, poi chiaramente i salumi del territorio, i formaggi, da tutto. Però questo è il nostro modo per iniziare il nostro agritour, gli ambasciatori del mondo della mela della Val di No, perciò gli agriturismo di proprietà dei frutticoltori. Ho detto che ne vedremo altri, allora muoviamoci, andiamo subito da un'altra parte. Abbiamo così, amici cari, cambiato velocemente località. Siamo a Preghena, frazione del comune di Livo. Sono con Mario Pancheri, che naturalmente è un frutticoltore, uno dei soci del consorzio, perciò attività primaria alla mela, però anche lui ha un agriturismo che fa parte del circuito agritour. Quegli agriturismi che sono ambasciatori del consorzio, del mondo della mela, insomma di tutto quello che ruota attorno a questa terra meravigliosa. Vi ho detto che ogni agriturismo ci proporrà una peculiarità. Per esempio Mario ha le api, è vero. Allora, questo miele, che miele si produce qui? Beh, incominziamo in primavera col miele di melo, poi il miele di acacia, quindi le porto in montagna, in malga a 1800 metri per il rododendro, quando la stagione ci permette di produrlo. Oppure la melata, qua sono tutti abeti bianchi, abeti rossi, c'è una buona produzione anche di melata. Perciò una parte stanziale, una parte anche di nomadismo, se vogliamo dire. Sì, quasi tutto nomadismo. Incomincio con l'impollinazione, quindi le sposto, faccio due impollinazioni, una mezzo lombardo e poi le riporto in Val di Nonne per la fioritura dei nostri meli, la parte alta. Miele che naturalmente viene poi proposto ai clienti dell'agriturismo. Esatto. Ovvio, logico. Però facciamo un discorso molto serio e importante per il mondo frutticolo. Beh, le api, insomma, l'impollinazione, le mele, guai non ci fossero. Eh sì, è molto importante poi l'impollinazione. Se uno sta attento, vede da dove ci sono le postazioni di impollinazione, le mele sono più grosse. Abbiamo detto che una parte sta qua, una parte si muove. C'è una piccola curiosità che le volevo chiedere. Perché è tutto cintato? C'è l'orso e dobbiamo proteggersi con il recinto elettrificato. Non è perché qualcuno la sera fa sparire le armi, no? È perché l'orso chiaramente. A volte capita, ma no, tendenzialmente da noi quelle cose lì non succedono. Mario, io ho detto, no, speriamo che non capitino da nessuna parte, ecco. Ho detto però che lei è un frutticoltore, naturalmente attività primarie. E poi c'è l'agriturismo. Beh, insomma, voglio dire, avete ingranato, vi dà soddisfazione? Sì, cominciamo, sono aperto da poco, sono cinque anni, comunque piano piano ci stiamo ingranando. Poi se la stagione è calda che ci aiuta, ci dà delle soddisfazioni. Ah beh, insomma, voglio dire, quando raggiungete questa terra meravigliosa, la Val di Nona, il Trentino, ricordatevi dei nostri amici che oggi ci presentano questo tour, questo circuito di agriturismi che promuovono giustamente il loro prodotto principe che è la mela. Bene, allora lasciamo Mario con le sue arnie, con le sue api, questo mondo meraviglioso, con i mieli che lei ci ha fatto vedere e anche degustare, che devo dire complimenti perché sono veramente molto molto buoni. Allora c'è la signora che ci sta aspettando, ma c'è anche un'altra signora con un bimbo che ci sta aspettando. Ora capiremo il perché. Rimanete con noi. E allora, detto fatto, sono con la signora Clelia, la moglie del Mario che abbiamo visto con le api. Dunque, siamo nel frutteto perché c'è questa operazione di cui abbiamo già parlato in passato, ma ricordiamola perché è molto molto bella. Si possono adottare dei meli, dico bene? Certo, benissimo. E com'è che succede? Allora, in primavera quando i meli sono in fiore, la famiglia o chi ne interessa viene a soggiornare qui. Sì, a soggiornare, li portiamo nel prato e si scelgono il melo che vogliono loro e si mettono la targhetta con il loro nome e poi l'autunno vengono a raccogliersi una gabbia di mele dalla loro pianta. Allora, spieghiamo bene. Si arriva qui in valle, si soggiorna un paio di giorni in uno degli agriturismi dell'Agritour, del circuito degli agriturismi ambasciatori, si adotta il melo, poi durante il momento in cui si raccoglie, insomma, possiamo fare man bassa. Man bassa proprio. Dai, nel senso buono. Si raccoglono. Dal proprio melo. Dal proprio melo, sì. Clelia, io la saluto, la ringrazio molto lei e il Mario, grazie per il bel agriturismo, il fruttetto meraviglioso, le api, l'adozione del melo, ma andiamo a chiedere una conferma di quanto ci ha detto Clelia, perché raggiungo, ve l'ho detto, che ci sarebbe stata un'altra signora con un bimbo meraviglioso, che è il piccolo Riccardo, la signora Elisabetta. Vedo, c'è anche il cartello se non sbaglio, è vero, guarda qua, Riccardo 34 2012. Perché questo, Elisabetta? Salve, noi abbiamo visto sul sito della Melinda che c'era questa opportunità, ci siamo iscritti e siamo venuti ad aprile con il mio bambino a soggiornare presso questo agritur, ci siamo trovati veramente benissimo. E in più abbiamo trovato tutta la Valdinoni in fiore e abbiamo scelto questo melo, anche se, devo dire la verità, i fiori erano un pochino scuri, ci ha raccontato poi il signore del proprietario, il frutticoltore, che era perché c'era stata una gelata. E non ci saremmo mai aspettati di trovare poi un raccolto così meraviglioso. Lei mi conferma con il bravo Riccardo qui, le parole che ci ha detto il vicepresidente, che, grazie a Dio, insomma, le cose sono andate meglio di quanto ci aspettassimo durante la primavera. Allora, adottato il melo, siamo in raccolta. Stiamo facendo la nostra cassetta, bellissima, io e Riccardo, siamo venuti di nuovo a fare altri due giorni verso l'agriturismo, adesso ci stiamo facendo la nostra cassetta che conserveremo e mangeremo. E porterete a casa. Adatto, mangeremo. E gioia di Riccardo, chissà quante belle mousse di mela ti fa la mamma con queste mele qui. Allora, grazie anche alla signora, al piccolo Riccardo, bello come il sole. E, beh, noi proseguiamo perché il nostro percorso con gli agritur, naturalmente, non è terminato. Rimanete con AgriSapori. Un altro agritur ambasciatore del consorzio. Questa volta siamo nel comune di Terzolas e siamo in Val di Sole. Ma soprattutto, amici cari, un'altra famiglia di produttori, di frutticoltori. Mele, naturalmente, in abbondanza e di ottima qualità. Però abbiamo detto che in ogni agritur andremo a scovare delle peculiarità. Beh, a parte la struttura ricettiva, a parte le mele, qui c'è una storia molto bella che ora andiamo a scoprire. Antonio Anselli, da sempre la tua famiglia, sì, le mele, ma da sempre il mondo zootecnico, il bestiame. Perciò già dal nonno, qui dove c'è la struttura splendida, nuova, c'era la stalla. Vogliamo raccontare la tua storia? Certo. Questa era la vecchia stalla, costruita, ha iniziato a costruire dal mio nonno all'inizio degli anni 40. Lui proveniva con la sua famiglia da Samo Clevo. E appunto si sono spostati in quel di Terzolas, acquistando una piccola porzione di questo terreno e hanno incominciato a costruire la casa e l'annessa stalla praticamente, ingrandendola poi via via negli anni, fino ai primi anni 50, sono state fatte in tre momenti e è stata costruita tutta questa la stalla. Il nonno, se non sbaglio, fin da bambinetto era stato inviato a lavorare con il bestiame, ma oltre confine, cioè in Austria. Sì, lui è rimasto orfano in giovanissima età, di papà, e la sua mamma l'ha fatto studiare in Zillertal, in Tirolo, e ha imparato la lingua tedesca e per lui è stata la sua fortuna, perché poi è rientrato e diventato grande, ha incominciato l'attività anche di commercio proprio con l'Austria, è stato uno dei primissimi commercianti... Anche importatori? Importatori di bestiame dall'Austria. E adesso arriviamo ai giorni nostri, non c'è più la stalla, c'è questa struttura bellissima, questo Agritour, però abbiamo ancora i Pascoli, abbiamo ancora un'altra stalla e abbiamo ancora quella passione per il bestiame. Sì, perché nei primi anni 70 mio padre per problemi di spazio ha deciso di costruire una stalla nel comune di Malè e questa qui è rimasta così in disuso. e noi 4-5 anni fa, mia moglie ed io, abbiamo deciso di ristrutturare e di fare questo Agritourismo in pratica. Hai detto bene, mia moglie ed io, perché una cosa bellissima che stiamo notando è che negli Agritour entriamo praticamente a casa delle famiglie. Se non ci fosse questa collaborazione della famiglia, c'è niente da fare, sarebbe un'attività impossibile da fare. Le mele, le mele belle, le mele D.O.P., queste sì che sono mele. Abbiamo anche lo strudel che i dolci qui al mattino a colazione li farà con la signora. Eh sì, certamente, tutte le mattine freschi. Io devo andare in stalla, prendere il latte che poi lei lo usa appunto per confezionare i dolci, lo yogurt e il latte fresco. Per gli ospiti del Agritour, c'è anche tuo fratello in stalla. Certamente. Abbiamo parlato delle mucche, abbiamo visto i pascoli, allora eccolo qui, un bel bicchiere di latte freschissimo appena munto. È chiaro che la produzione del signor Antonio, una parte viene servita agli ospiti dell'Agritour, però il grosso della produzione va poi al vicino caseificio per essere trasformata in che cosa? Nell'ottimo grana di alta qualità. Allora, stringo la mano anche ad Antonio, grazie, scusaci se ti abbiamo disturbato mentre state lavorando, però noi non abbiamo ancora terminato perché c'è già un altro Agritour che ci sta aspettando. Familiarità, ospitalità, accoglienza, amicizia, calore, queste sono le componenti degli Agritour che sono circa 20 sul territorio e questo è molto importante da ricordare. Questa volta ci siamo nuovamente spostati, siamo a Dercolo che è una frazione del comune di Campoderno e soprattutto qui trovo Flavio Pezzi che naturalmente è un frutticoltore ma ha anche lui un suo Agritour. Ma attenzione, per essere nel circuito Agritour bisogna avere insomma seguire dei canoni, degli schemi ben precisi, non è che proprio è aperto a tutti. Dico bene Flavio, eh? No, infatti per essere agrituristi bisogna prima di tutto essere coltivatori, agricoltori, questa è la condizione principale e poi bisogna avere anche un po' di attenzione per l'ospitalità soprattutto perché non si può fare l'agritura in maniera pressapochista, bisogna coltivare in maniera seria l'ospitalità, l'accoglienza e avere il senso insomma dell'ospite. In due parole bisogna dare qualità, è vero? Il segreto di Pulcinella è proprio questo, ormai in un'agricoltura di montagna come la nostra bisogna avere prodotti di qualità, su un territorio di qualità e il senso dell'ospitalità fatto e improntato alla qualità. Allora noi per raggiungere il suo Agritour abbiamo percorso in parte la strada della mela e questo signore è un esperto di una mela in particolare, la Renetta, perché io mi sono documentato, me lo ho chiesto, mi dice qualcosa di questo frutto che è DOP, ricordatevi che solo qui in Valdinone troviamo l'unica mela italiana a denominazione di origine propetta. Mi parla di questo per un istante? Allora io sono molto affezionato a questa varietà perché è la varietà che è stata coltivata per prima in Valdinone e che ha avuto molto successo all'inizio del secolo, era molto apprezzata perché era una mela molto conservabile, oltre che molto buona, brutta da vedere però molto buona e era molto apprezzata anche dalla corte dell'Eosburgo a Vienna perché la acquistavano in Trentino e quando arrivava dopo un lungo viaggio a Vienna diventava ancora più buona, ancora più saporita. La Canada adesso sta riprendendo il suo posto come una volta e adesso sta riprendendo quota però la coltivazione come dicevo è abbastanza difficile e allora il Consorzio Melinda ha pensato di dare un premio in più a chi coltiva le Canada e questo ha aiutato molto a far crescere la coltivazione. Ha incentivato. Io ho detto che di ogni agritur avremo presentato delle peculiarità, questo signore la vigna ce l'ha ancora, è di un vitigno particolare su questo territorio. Quindi non solo mele ma in questo caso anche vino oppure trasformati come il succo di frutta, il succo di mela. Io ho puntato sul vino perché qui è un'area molto vocata per il vino, soprattutto per i vini rossi. C'è questo vitigno nuovo che è frutto dell'incrocio fra il Teroldego e il Merlot e si chiama Rebo. Coltivato in queste aree dà risultati eccellenti e io da dieci anni coltivo questa vigna con buoni risultati. E naturalmente da quella vigna il signor Flavio fa qualche buona bottiglia di vino, è vero? Certamente, non tantissime perché io faccio quel tanto che serve per la famiglia, per gli amici e per gli ospiti che vengono nella nostra struttura. Però so che è apprezzato. Apprezzatissimo. Flavio, un'ultima battuta poi non la disturbiamo più, anche un po' di vino bianco con qualche amico. Sì, mi piace anche il vino bianco, soprattutto lo sfumante, col metodo classico, per cui sempre per accontentare anche i nostri ospiti, i nostri amici, facciamo circa 300 bottiglie ogni anno seguendo in maniera scrupoloso il metodo tradizionale, il metodo Saint-Penois, il metodo classico. E allora chi viene a soggiornare qui a Dercolo, oltre all'accoglienza, la familiarità, le tante cose, la vallata stupenda, il calore del suo Agri-Tour, beh insomma ha detto fra di noi anche un buon bicchiere di vino. Sicuro, ok? Alla Val di Non, alle mele. E vida. Ancora la Val di Sole, ancora un Agri-Tour, un ambasciatore, questa volta siamo nel comune di Caldès e sono con Fabiana perché anche qui andremo a scoprire delle peculiarità molto molto interessanti. Parleremo poi anche della struttura, di come è stata edificata, ma tutto a suo tempo. Fabiana cara, intanto abbiamo ogni ben di Dio qui di fronte a noi, perciò vuol dire che i tuoi ospiti sono ultra coccolati. Certo. Chi c'è in cucina che fa tutto? Mio fratello Ciro, lui è cuoco, ha ripreso un po' le tradizioni della nostra terra, abbiamo le scarpacce di vermilio, che è un'antica tradizione di mia nonna, il classico tortello di patate, le scaloppine con i funghi, radicchio dell'orso, i funghetti che raccoglie mia mamma, sono tutti prodotti nostri, formaggio, casolette, lo specchio, tutti gli affettati. Chiaramente, casolette è un formaggio tipico qui della Val di Sole. Certo, certo. Insomma non ci facciamo mancare nulla, tutti voi avete delle vostre peculiarità e in questo caso per esempio tu hai dei momenti di didattica con i bambini. Certo, con i bambini ma anche con gli adulti. Ai bambini insegniamo a fare lo strudel, le frittelle della nonna, oppure anche a fare dei piccoli lavoretti con la mela essiccata, ma con tante cose, li intratteniamo, li importiamo nei meletti, li insegniamo da dove arriva le mele, a raccoglierle e così, passiamo dei bei momenti con loro. Ma ci mancherebbe, poi il periodo insomma è consono, iniziamo anche così a giocare con le festone di Natale, le preparazioni. No, stiamo preparando gli addobbi di Natale, adesso in questo momento c'è mia cognata, la moglie di Ciro che insegna loro a fare tutti gli addobbi, a fare le cornici, le scatoline regalo. Eh beh insomma dai siete bravi, siete bravi, questo poi è un ambiente particolarmente bello. C'è un altro particolare che però volevo presentarvi perché quando raggiungerete questo agritour, beh potrete trovare il centro benessere. Ed entra nuovamente in gioco il frutto primario, la mela. Fabiana cosa vi siete inventati, cosa avete combinato qui? No, beh la mela ha delle antiche proprietà antiossidanti, è un frutto sempre usato. Noi abbiamo studiato degli oli, ce li preparano apposta e abbiamo un estetista che fa dei massaggi con la mela, sia rossa che gialla, sia la red che la delicious. I nostri clienti sono contenti e andiamo avanti di questo passo. Hai visto cosa non fa una mela, eh? Cosa non fa una mela. Che cosa ha creato su questa terra, è guai non ci fosse stata la mela. Allora Fabiana io ora ti saluto, ti ringrazio molto, poi magari assaggio qualcosa delle preparazioni qui di Ciro, però raggiungo tuo marito perché vi ho detto che questa è una struttura costruita in modo particolare, ma andiamo a scoprirla adesso. Siamo dunque usciti all'esterno dell'Agritour perché questa volta con me c'è Michele che è appunto il marito di Fabiana. Allora con tua moglie io mi sono permesso di dire questa è una struttura creata, costruita in modo particolare, con molte attenzioni, ma lasciatela la palla insomma. Perché possiamo dirlo? È stata costruita con dei materiali ecco... Sostenibili. Sostenibili. E in particolare legno, pietra naturale, dopo abbiamo messo i pannelli solari per l'acqua, abbiamo messo la cisterna per la raccolta dell'acqua piovana, abbiamo una caldaia a legna. Ha un bassissimo impatto ambientale per capirci, però poi il legno, le pietre, i materiali utilizzati, questo comporta anche un minore utilizzo di energie per scaldare, quindi siamo in montagna. Certo, molto meno, un risparmio, cappotto esterno, triplo vetro. Mi ricordi il tuo cognome? Iacchialini Michele. Ecco, così abbiamo ricordato tutto quanto. Lasciamo anche questa struttura, ma continuiamo con il nostro programma, con il nostro viaggio di questa settimana. Abbiamo completato il percorso con gli agritour, soltanto alcuni, chiaramente dei circa 20 che sono presenti sul territorio, ma se ben ricordate fin dall'inizio abbiamo detto che siamo in raccolta di prodotto e dobbiamo garantire una certa qualità di prodotto al consumatore. Ho raggiunto pertanto uno dei punti di conferimento del consorzio, ma vorrei capire come si lavora per offrire questa qualità. Massimiliano Gremes è il responsabile della qualità. Allora, Massimiliano, com'è che lavoriamo? Buongiorno, innanzitutto. Ecco, il prodotto viene raccolto e giornalmente viene conferito nei nostri centri di stoccaggio e al momento del conferimento inizia quello che è il nostro percorso qualità. Qui si fa una prima valutazione visiva del prodotto in ingresso e si separa il prodotto maturo dal prodotto meno maturo e verrà stoccato in celle diverse per poi che queste verranno lavorate in periodi diversi durante l'anno. Teniamo presente che questo prodotto dovrà essere conservato anche 12 mesi. Questa sua affermazione ci conferma il concetto che appunto abbiamo differenti maturazioni nei giorni predisposti alla raccolta, perché abbiamo capito che sono giorni ben precisi per raccogliere. Sì, noi abbiamo 4.000 produttori e abbiamo circa 80.000 appestamenti che sono disposti da 400 metri a 1.000 metri di quota sul livello del mare. Di conseguenza ci sono a parità di data di raccolta naturalmente maturazioni diverse. Noi per riuscire a dare al consumatore il prodotto al giusto grado di maturazione dobbiamo quindi separare il prodotto a conferimento, gestirlo in celle di conservazione separatamente e poi destinarlo al consumatore al momento opportuno, vale a dire a Natale la mela matura, a Pasqua e nel periodo estivo la mela un po' più verdina. Naturalmente sui frutti anche i segni che abbiamo avuto durante la stagione, durante l'anno di lavoro, delle condizioni climatiche. Chiaramente noi lavoriamo, noi siamo una fabbrica che lavora a cielo aperto e di conseguenza siamo oggetto dei caprici anche del tempo, di conseguenza abbiamo del prodotto anche a volte toccato dalla natura, grandine e quindi dobbiamo separarlo e lavorarlo e darlo al consumatore al suo giusto prezzo. Non buttiamo via niente. Completerei con una piccola battuta mentre continuano arrivare i trattori con il prodotto raccolto. Ok 4.000 produttori ma chi non fa qualità guardate con chi se la deve vedere. Rimanete con noi perché non abbiamo ancora finito. Siamo in chiusura di appuntamento ma prima abbiamo una notizia molto molto importante da comunicarvi. Siamo nell'ambito di una manifestazione dedicata alla festa del mondo della mela, la raccolta, la festa della raccolta. Siamo a Pomaria. Per io sono con Maurizio Martino che arriva con un gruppo di suoi corregionali dall'Emilia Romagna. Voi arrivate da quelle zone purtroppo duramente colpite dal sisma. Noi esattamente veniamo da Mirandola, San Felice e queste sono state le zone più colpite dal terremoto. E tutto un gruppo di persone. Esatto. Noi siamo tutti negozianti al dettaglio che purtroppo abbiamo le nostre attività in zone rosse. Inagibili. Inagibili. Io sono stato uno dei primi a delocalizzarmi sotto a un gazebo di 3 metri per 3 per 19 settimane. Però arriviamo al momento cruciale. Perché Pomaria? Perché la Val di Non? Dovete sapere che le famiglie dei frutticoltori che appartengono al consorzio Melinda hanno deciso di fare qualche cosa per le popolazioni colpite appunto dal terremoto. Allora nell'ambito della manifestazione le signore emiliane hanno avuto un quantitativo direi notevole di prodotto di mele da vendere al pubblico. Tu correggimi se sbaglio. Il ricavato chiaramente non verrà trattenuto dal consorzio o dalle famiglie della Val di Non ma verrà devoluto agli amici dell'Emilia Romagna. Non solo perché se ho capito bene in base alla cifra che raggrupperemo il consorzio raddoppia. Raddoppierà la cifra che praticamente noi in questi due giorni abbiamo raccolto. Allora chi va sul profilo Facebook slash Melinda Val di Non e clicca mi piace ogni volta che cliccate un mi piace darete un euro a loro. Attenzione non solo ogni mille euro. Chiaramente sarebbero mille click, mille euro. Esatto. Ma non solo mille euro. No, diventano due mila perché raddoppia il consorzio. Vi rendete conto se arriviamo a diecimila click, facciamo delle ipotesi, non diamo solo diecimila euro a loro ma ne diamo ventimila. E allora ricordiamolo facebook.com slash Melinda Val di Non perché diamo una grossa mano ai nostri amici emiliani che insomma non stanno vivendo dei buoni momenti. No, direi che purtroppo stiamo chiedendo allo Stato che aiuti queste zone terremotate. Maurizio, penso che insieme abbiamo dato un segnale, soprattutto voi e le famiglie della Val di Non. Insomma, state uniti, stiamo uniti. Noi stiamo uniti. Ecco, diamoci una mano. Bene, grazie. Ecco. Grazie al consorzio abbiamo così completato anche questa puntata dalla Val di Non. Abbiamo riscoperto questo mondo meraviglioso, il mondo della mela con gli agri tour, con la raccolta delle mele, con tante particolarità e poi abbiamo abbracciato gli amici dell'Emilia Romagna. Anche questa puntata la potete rivedere su www.agrisapori.it. Grazie alla redazione, alla regia di Antonio Gavazza e da Fabrizio Salce che dalla Val di Non vi dice ciao. Arrivederci.